Rosa, ancora con sto crembiolino in mano? E quanto tempo ci metti? La mia signora si è tanto raccomandata, mamma. Domani abbiamo visite, lo sai? Come siamo eleganti, eh? Hai sentito che ha detto? Abbiamo visite? Ma ti senti quando parli, eh? Quella è la tua padrona, non è la tua signora. E tu sei la sua serva, è la sua serva. Pasqua, io non sono la serva di nessuno, tanto meno della mia signora. Guarda, guarda che belle scarpe nuove che mi ha comprato. Pure il sapone, vero mamma? Ti ha regalato il sapone profumato perché puzzi di cavola come a noi. E le scarpe perché ai piedi c'avevi le ciabatte che camminavano da sole. È la serva, hai capito, mamma? Basta, basta qua, basta con questo tono, basta.